Aveva costituito una ditta individuale per un'impresa edile intestandola ad un soggetto straniero, creando di fatto un'azienda falsa per ricevere un finanziamento regionale realizzando una truffa per 600 mila euro ai danni della regione Campania. Per l'uomo un imprenditore di origine cilentana, la Guardia di Finanza, come disposto dal Tribunale di Vallo della Lucania, ha operato un sequestro preventivo di beni per una cifra equivalente. Le indagini delle fiamme gialle di Vallo della Lucania, fatte anche attraverso accertamenti bancari nei confronti dell'imprenditore, hanno accertato che l'uomo aveva solo aperto una finta azienda, esercente lavori edili, intestandola fittiziamente ad un soggetto straniero per ricevere un finanziamento dalla regione ed eseguire lavori di ristrutturazione ad un alloggio per anziani, che sarebbe stato poi gestito da una cooperativa amministrata dall'imprenditore stesso. L'impresa, indicata come materiale esecutrice della ristrutturazione dell'immobile, è risultata però essere una mera cartiera, un'azienda, cioè priva di qualsiasi consistenza economica, struttura operativa e personale dipendente, il cui compito è solo quello di produrre documenti contabili sostanzialmente falsi. La stessa, infatti, non aveva proceduto all'esecuzione di alcun lavoro di restauro a fronte dell'emissione di fatture nei confronti della regione campania per attestare lo stato di avanzamento dei lavori. Nello specifico, la Guardia di Finanza ha accertato come l'ideatore della truffa non appena riceveva l'accredito dei fondi sul conto corrente della società cooperativa, li bonificava in favore della ditta edile, la quale a sua volta riaccreditava le somme sui conti correnti personali dell'impresario, che così si impossessava illecitamente del denaro oggetto di sovvenzionamento. Per garantire il recupero sia di quanto indebitamente percepito che dovuto all'erario, il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di risorse finanziarie, di immobili e di beni, tra cui una Ferrari modello 348 TB per un ammontare complessivo di 600 mila euro nei confronti del legale rappresentante della cooperativa. L'imprenditore cilentano ora dovrà rispondere del reato di truffa aggravata nei confronti della regione Campania, finalizzata all'indebito ottenimento di contributi e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.